ciao 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 a tutti da s video siamo un solito up time travel e con me chi c'è angelo angelo lo sentirete qua allora dunque facciamo così per dieci minuti se dobbiamo vedere chi arriva più in alto di noi in dieci minuti ma so già che mi straccerai perché te sei fortissimo non ha molto senso questa sfida guarda già quanti metri so io sono lentissima sono caduto anche io brutti inizio allora perché così quando si registra di sata si gioca peggio di che quando ragazzi è così no comunque io non ho ancora superato i 480 che ho ogni video ma sì ma i 480 sono sopra quel dinosauro che ci devi volare si sono nel dinosauro eh ma tu sei caduto nel dinosauro no appena aspetta ci sono delle piattaforme arrivi arrivi ah tipo dove c'è tipo là nel deserto beh comunque dopo ti se ci arrivo no sono caduto allora questo è un brutto inizio questo è un brutto inizio attenzione attenzione perché il videogame mi sta superando ok allora sono le uova nelle uova si vuoi mangiare si ho fame io allora video ma secondo te quale dinosauro ha fatto le uova secondo me la gallina la gallina non è un dinosauro ah però e però però era l'antenato dei dinosauri la gallina me l'ha detto e fa pure le uova la gallina mio nipote mi ha detto che la gallina no però aspetta l'antenato vuol dire che è nato prima no allora no c'è qualcosa che no i dinosauri sono nati prima sì no c'è qualcosa ho sbagliato qualcosa aspetta adesso adesso sentirò allora forse la gallina è l'evoluzione del dinosauro boh cosa il dinosauro è l'antenato della gallina ecco il dinosauro è l'antenato della gallina sì sì infatti ho detto una cavolata vabbè che la gallina non potrebbe essere mai antenato del dinosauro sì infatti ho detto una cavolata atomica vabbè pazienza allora ma tu lo sai che io una volta che io ho visto un po' uno spoiler di sta mappa è nel quarto checkpoint ci sono tipo gli anni 80 no ma ci devo arrivare allora scusa io c'è li adoro gli anni 80 è lontano sono verso i 2000 metri e allora non ce la farò mai comunque sono arrivato il primo checkpoint tu hai calcolato i 10 minuti hai fatto partire il timer dei 10 minuti sì ovvio bravo bravo video attenzione perché sono quasi vicino da te oh video 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 sono vicino allora mi fermo un attimo che facciamo un abbraccino aspetta sei vicino vicino o vicino lontano vicino 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 ah adesso ti ho visto t'ho visto alessio non ti puoi unire sto registrando un video lo so che non mi senti parlando vabbè eccomi ciao ciao abbraccione studio come ma lui è mio fratello c'è dietro c'è dietro dietro la toskina mio fratello mia oscola hai visto hai visto eh sì 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 io c'ho la skin di mia oscola però fu se lì ah ho capito no 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 vabbè dai vabbè dai meno male ci sono i checkpoint video ti immagini che arrivo ti immagini che finisco la mappa in sto video dai se lo che c'è loro vedono la mia visuale vedono la mia visuale mettiamo in palio un biscotto va bene te immagino che lo vorrei il cioccolato allora video lo sai che oggi mi faccio una ricarica da 20 euro oh però mica male mica male mica male allora e dopo oh 600 metri dopo festeggi con l'acqua maialina io sono indietro come fa essere così veloce aiuto ok aspetta un secondo eh no ma sei 203 ma che 700 ma cosa dici imbroglione no no video io non paro hai detto che eri 703 io vedo la fascetta qua che dice 203 ma io ho detto 203 ah ho capito 703 eh ho capito si vabbè si ma ti dice ma tanto in giudizio non ci arriverò mai ma ti ho detto come come fai a essere così veloce cioè angeluccio video lo sai che ieri sono arrivato nel vulcano su l'iap 1 si attento che tipo verso ero verso i ero a 1100 metri eh e poi sai perché sono morto perché mi sono bruciacchietto con la lava eh infatti io mi immaginavo oh stavo cadendo aiuto no aiuto si eh oh 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 aiuto mamma mia video si sono quasi a 300 quasi a 300 300 si ok bravo bravo io sono non 300 anni però eh no no beh ma secondo te allora io sono a 213 dai ma il mio record è di 480 te lo ho detto ma tu lo sai che ho superato le gabbiette dove ci tengono chiuse le scimmie ah si non farle uscire fuori aiuto oh dai ok vabbè comunque vabbè angelo abbiamo già capito che 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 mi batti quello lì l'abbiamo già capito perché ma lo sapevo è troppo bravo in confronto a me però almeno devo fare il mio record di 480 chi è il più bravo a fare all'iap secondo te in tutta la tua community ma allora eeeh cioè io ho visto delle persone che giocavano con me e delle persone che mi hanno detto le cose quindi quando le cose me le dicono però non le ho viste come faccio a valutare se è una cosa vera o falsa si però io sono io sono uno cioè io sono il più bravo di tutta la tua community su all'iap ma allora un altro che è molto forte è Giuseppe si e lui mi ha detto che è arrivato ma può essere che è arrivato a 1200 1200 su questa mappa può essere? si Svi ci è arrivato perché io pure ci sono arrivato Svi allora c'era il sushi c'è il sushi a 1200 si e te lo sei mangiato? Svi Svi ero troppo attratto nel sushi infatti sono caduto per colpa del sushi sei scivolato sulla salsa wasabi sulla cosa tipo ero nei nighini vedevo tutti i nighini le cose cinesi oddio Svi guarda quanti ma no aiuto Svi sto cadendo che salvataggio che mi sono fatto Svi bravo ma ha tirato un colpo sono caduto il lag mi ha salvato dai che fortuna ero caduto e poi mi ritrovo di nuovo nel punto di prima grazie al lag lag ti voglio troppo bene dunque concentrazione che devo arrivare ai 480 almeno eh Svi io ci sono quasi io ci sono quasi guarda Svi sto volando ho superato il tuo record non ti vedo faccio fatica a vederti Svi guarda quanti metri sto è 539 mamma mia sono un abetto oh Svi è probabile che oggi lo superi nel video con me perché io porto sempre fortuna dai portami fortuna eh Svi ma tu lo sai che mi stai portando fortuna vero si tu ah bene bene me ne stai portando molta fa piacere allora no ma che aspetta però però sono caduto vicino mi è andata bene è finito sono già passati 10 minuti ma volevo dire una cosa facciamo allora facciamo così quando cado quando cado ecco perché c'è nel senso sono in effetti a 377 io guarda guarda che punto so io cioè quindi facciamo così quando cadiamo tutti e due ok va bene quando cadiamo tutte e due ma il fatto che dopo io non posso avere la visuale la visuale tua se io cado boh no non puoi no non si può 600 metri allora bravissimo allora no 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 C'è caduto? Oh Sì Niente allora devo No 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 Neanche stavolta è 480 Sei qua in basso? Sei qua in basso? Aspetta Mi butto Dai vieni giù Vieni giù che ci diamo un abbraccino finale Niente Se no andiamo Andiamo vicino al dinosauro lì Aspetta facciamo il finale qua dal dinosauro Ecco qua Con il dinosauro Sullo sfondo Vieni 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 Guarda aspetta Andiamo nel dinosauro Facciamo un finale sopra il dinosauro Una abbraccione sopra il dinosauro Ah niente sono già caduto Io ci salgo da qua Ci riesco a salire dalla coda No non mi fa salire dalla coda Niente facciamo L'abbraccio sotto il dinosauro Speriamo che non ci faccia la cacca d'os Allora Ok Comunque grazie a tutti quelli che hanno guardato questo video Grazie E ci vediamo dalla mucca con i Con sei denti La mucca con i sei denti Vabbè vabbè Comunque ciao da svideo Ciao da Angelo Ok Grazie a tutti quelli che hanno guardato questo video Però non hanno ancora superato il mio record Complimenti invece a Angelo Che te sei caduto a A A Verso i 650 metri Bravo 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 Ok Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.